Furto con scasso alla cassa automatica del distributore di un Bartabacchia Pagani in via Santa Chiara ripreso dalle telecamere di videosorveglianza a pochi minuti per mettere a segno l'ennesimo colpo di notte in provincia di Salerno che conferma la presenza di una banda che con piani d'azione ben studiati riesce a mettere a segno nel giro di pochi minuti i loro colpi portando via bottini desiderati. Sono i carabinieri del comando della tenenza di Pagani ad indagare sull'ennesimo furto che avrebbe fruttato ai ladri un magro bottino per la presenza di pochi soldi nella cassa automatica che segue però di poche ore quello ai danni di una tabaccheria nel centro tra Corso Vittorio Emanuele e via Garibaldi a Nocera Inferiore ed un'altra nel comune di Baronissi dove anche in questo caso sono i militari dell'arma a seguire le indagini. Flex portatili, piede di porco, gli arnesi utilizzati da malviventi per aprire saracinesche porte utili a guadagnarsi l'ingresso nelle attività commerciali dove nonostante l'attivazione degli allarmi i ladri proseguono nel loro lavoro con orologio alla mano prima che possano giungere sul posto pattuglie delle forze dell'ordine. Così è stato anche ieri notte dove nel giro di pochi minuti due esattamente almeno otto persone a bordo di due vetture hanno rubato la cassaforte con i contanti al Conad Super Soul di Viale delle Calabre nel quartiere Forni a Salerno cercando anche di raggiungere il cavo per recuperare un bottino ancora più sostanzioso. Determinati e veloci anche i ladri che poco prima dopo aver tagliato con il Flex la saracinesca hanno portato via cassa, sigarette, gratte e vince e valori dal Bartabacchi Coscia di Via Medaglia d'Oro a Pastena esattamente una decina di minuti prima dell'altro colpo compiuto al Super Store Conad di Forni. In entrambi i casi indagano gli agenti della squadra mobile della questura di Salerno che stanno mettendo insieme più tasselli anche grazie alle immagini di videosorveglianza per stringere il cerchio ed individuare i responsabili. È chiaro che nel frattempo la lista dei colpi messo a segno tentati nella città di Salerno in provincia negli ultimi tempi si infittisce sempre più. In molti casi compare sempre una stessa vettura, un Audi di colore scuro dove sono sempre almeno quattro le persone a compiere i furti a cui si aggiunge un dettaglio non trascurabile, quello della contemporaneità degli eventi talvolta compiuti a distanza di pochi chilometri l'uno dall'altro e la vicinanza di vie di fuga in autostrado in tangenziale. Una banda ben strutturata presumibilmente composta da malviventi giovanissimi che spesso si muovono su auto rubate o con targhe modificate che sta compiendo un vero e proprio attacco alle attività commerciali nelle ore notturne dove possono fare cassa con cospicui bottini di contanti, gratte e vinci, valori e sigarette, insomma tutto materiale di facile riciclaggio.